Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda tra Scandicci e Ginestra a Fiorentina in direzione mare, sulla carreggiata opposta rallentamenti tra Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze, sulla A11 per lavori stanotte dalle 22 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di Alto Pascio in entrata in direzione Pisa, sulla statale 67 Tosco-Romagnola al chilometro 61.2 restringimento di carreggiata per Frana nel comune di Lastra a Signa. A Firenze in via Micheli per lavori di vieti di sosta e di transito nel tratto via Cherubini via Gino Capponi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!